Ciao amici, ma Simona dove eri sparita? E i tuoi video settimanali? Mamma mia no, non sono sparita, ho avuto un'altra delle mie settimane epiche, una settimana pienissima. In realtà bellissima, in questi giorni ero alla vacanza di benessere insieme a tanti amici carissimi che mi mancano già. Li saluto qui velocemente. Ciao Simona, che ti chiami come me? Ciao Emilio, Silvia, Aurora, Stefania, Cinzia, Ilaria, Elisabetta, Serena, Elena, ciao a tutto il mio staff, ciao a tutti. Lunedì vi farò vedere qualche momento speciale di questa vacanza. Per ora volevo solo salutare tutti voi e dirvi che la prossima settimana riprenderò con la più o meno normale programmazione estiva. Eh, vai! Ma prima di lasciarci vi do una notizia interessante che ho letto in questi giorni. Forse riguarda molti di noi più di quanto possiamo immaginare. Vi capita mai di provare una strana sensazione nel mese di agosto? Un po' indefinibile come quella specie di ansia che si prova la domenica sera quando pensiamo che il giorno dopo si ritorna al lavoro? Ah sì, 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 a me capita. Sì, vi è mai successo? È possibile perché capita a molti, tanto che da alcuni studi presso la Fordham University di New York, questo stato è stato definito come una sindrome detta August Blues, malinconia di agosto. La differenza è che la sindrome della domenica sera dura poche ore e la sindrome di malinconia di agosto un mese intero. Ma come un mese intero, no? Sì, è quel senso quasi di colpa e di insoddisfazione per non essere riusciti a fare abbastanza, per non essere stati al massimo come le aspettative o gli stereotipi della stagione ci vorrebbero in ogni istante del mese di agosto. Allora, se vi sentite tesi, agitati e vi ritrovate a pensare che l'estate sta per finire, non prendetevi sul serio, è solo un po' di August Blues. Tornate a sorridere. Io con i miei video ce la metto tutta per farvi stare bene. Meno male, grazie Simona. Quindi andate a vedere tutti i miei consigli di salute naturale e iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E noi ci vediamo presto qui sul canale con i prossimi video naturalmente. Ciao! 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 Ciao!